Il nostro sistema di nominazione è impeccabile Sì Eh dai ma perché mi hai aggiunto sti cosi? Ora ci dobbiamo mettere le torche Ciao a tutti del tour Oggi siamo qui con i giorni di Martina Ciao In questo nuovo episodio della Skyblock In Skyquest Con la nabba che sarebbe lei Perché lei è nabba Non so giocare Oggi la nabba cosa farà? Oggi la nabba ci costruirà In quella zona che vedete è vuota Ci costruirà una bellissima Un bellissimo storage per le nostre ceste Perché abbiamo bisogno di un posto di mettere tutte queste ceste che abbiamo Intanto io cerco di pulire l'isola Da tutto questo disastro che ha combinato lei con le foglie Mannaggia a te o Mi passi per favore la... Le cesoie? No Ma... Dai! Un attimo con... Nel tempo... Oh Gesù Cristo Ma sai parli di stombrizzi scusa? Non voglio fare... Ah no, no Non mi hai detto come si fanno Che ne so io? Eh impara Hai un'amica degno Beh... Su questo possiamo discuterlo Oh... Stavate a stu... Ti voglio bene Allora... Sì sì lo sento proprio l'amore No... Ho perso il cubetto Cos'è che hai perso il culetto? Cubetto? Madonna pure sorda Charly Moon Hai perso un culetto per caso? No Pazzo Non fare casino per favore Sarà molto semplice ti avviso Non ti aspettare nulla di chissà Ma poi fai qualcosa di bello carino Oh Espy Anche semplice Ma almeno fallo carino Sì e dammi il tempo Perché... Non deve essere più Non è che dobbiamo fare qualcosa di difficile Più alto La nostra casetta è bella sempre Ma ti sei... Quanti ne ho messi sulla conna dove sto io? Ti sembra che ti sei attaccato troppo la casa comunque Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Ma lì ce ne sono già tre È giusto Ok Benissimo E lo sapevo che dovevo cadere Togliendo gli alberelli Le palle Che hai fatto? Paduta Paduta Ma non fare un cubo cioè Allora Facciamo un sondaggio Chi vuole uccidere Charly Moon? Ho capito Ma stai facendo un cubo Cioè Un po' di... Aspetta Devo pensare If you feel me falling Won't you let me know Oh 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 Ma te lo fai tu Che c'è? Sto solo dando un mio tocco Non è che lo devi fare solo tu No Hai levato l'arco Lo dovevo... Ancora finire Ah Pensavo che lo dovessi togliere Che ne so Hai detto che devi prendere le scale Ma sto perdendo un sacco di cuori Solo per cadere Che è sta roba? Ah sì È la cosa che stavo facendo io Ma come? No perché Non l'avevo riconosciuta Mi hai accorciato i cosetti I cosetti I cosetti Cosetti? Oh ma ci senti I cosetti Ok con cosa chiudiamo? Legno? Dipende Aspetta Ho questo legno io Sto facendo il tetto Ti piace? Sì mi piace All'età di 16 anni Roborbia Se passi davanti Ogni volta che cerco di pezzare il blocco Ma perché oggi non vuoi continuare questa canzone? Cos'hai contro la canzone? Guarda che carino Arrivo Bello Vedi che era bello Hai il glass Perché l'abbiamo fatto insieme E l'ho stavolta fatta Se facciamo Ok Aspetta Aspetta che io tengo le tavolette Per appoggiarci sulle ceste Sì mi dai altri tavoletti qua Tavoletti Tavoletti Altre tavolette Me ne servono solo due Pre Mi scoccio Voglio una crafting table Pure qui Maledizione Mi faccio fare Sembra sotto e sopra Ding Mi piace Un sacco Ho sentito tipo come se stessi vomitando Mi volo del microfono Oh ma che è sto rumore? Sto cercando di incastrare il microfono Io non ho l'attrezzatura Non c'ho le foglie Io non ho l'attrezzatura da youtuber Io vuoi sapere con quale microfono registro? Vai Quello è della No Cioè sì ma no È della Wii Per il karaoke di High School Musical E si è scritto High School Musical sul microfono High School Musical E vuoi sapere qual è il mio reggimicrofono? Qual è il tuo reggimicrofono? Il mio libro di scienze Un diario dei segreti di quando ero piccola Che non c'ho mai scritto sopra Due scatolette portamatite dell'IKEA E due block notice Molto fai da te E beh Guarda che bello mamma È proprio bello È bellissimo Ah le torce qui non si possono mettere Mamma è bellissimo Sì è bello bello Oh ma perché non mi fa... Oh grazie Ma devo solo mettermi un po' più vicino No è proprio che qua non me la vuoi far mettere Ah Ah Minecraft funziona allora con qualche legge della... Della vita reale insomma Qualche legge della vita reale sarebbe a dire Che non fa mettere le torce sulle foglie Se no pigliano fuoco Nemmeno sugli slab Cazzo devo metterle Allora iniziamo con lo smistamento cesto Oh qui sopra posso metterle Grazie Addio Tadam Ti piace? Il nostro sistema di nominazione è impeccabile Sì Eh dai ma perché mi hai aggiunto queste cose Ora ci devo mettere le torce Stavo sbadigliando Se no magari si è lì Dobbiamo smistare tutto adesso Tu smisti Io guardo Ma no aiutami Ti aiuto guardando Beh muovi Mi sto muovendo Oh e dai aspetta Fammi mettere una cazzo di torcia Ma sei stupida Allora qua mettiamo gli ore Eh sì bravo mettili Oh Ne abbiamo di leather Ne abbiamo 17 Ma se metto la spada Se metto la spada sul coso Mi toglie la spada Che ho in mano Eh? Giusto Se metto la spada qua sopra Eh sì No Dammi la spada No te la sei presa tu Dammela Qua mettiamo I drop dei mob Ma perché mi scompare il culo della casa Quando indietreggio? Il culo Sì ma io qua cudo Cudo Pensavo al culo Cado Io qua culo Cudo ho detto con la D Cudo Io culo Manco capisce Ride ma senza capisce Ho capito culo Io culo Fa ridere Tu vagina No tu dovresti essere Non avrebbe tanto senso Un culo una vagina Mi serve una cazzo dove mettere Cioè mi serve un cosino Dove mettere L'armatura Come la facciamo? Che senso? Il quadratino rosso Eh Ci devo Mi serve Devi fare Gli stick Più la Devi fare nove stick Più al centro Un pezzo di pelle Qui Per questo E poi Non c'è più nulla 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 Oh qui ce ne sono un po' Ma Tutte le frecce Tutte le frecce Tutti gli archi Oh ho trovato degli scarpini Che prima non avevo visto No non posso prendere Tutta roba Allora lascio i blocchi E li prendo dopo No levati Arco Frecce Arco Nel prossimo episodio facciamo un posto dove tenere al sicuro Il quadri animali Una piccola fattoria Sì C'è un'altra spada qui Maledizione Devo spostare Tutto Non ha senso Ah foglie Sono sempre un blocco Sono un blocco Ah no le foglie le metto nella cesta della pianta Giustamente Quanta roba c'è qui Dentro Ah avevo dimenticato questo blocco Interessevole Interessevole Sì Mi piace mi piace Prova Charlie Maw Pronta Mi è caduto di nuovo il microfono Quattro Sì Tre Due Uno Aspetta Ok ci sono Ci sei Vai Bene Cinque Quattro Hai scusi con l'è caduto Due Uno Allora ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Abbiamo costruito un bellissimo hangar Perché quello è alla fine No vabbè E' molto molto figo Mi piace tantissimo La nostra isola si sta veramente espandendo Come vedete si va sempre più grande E' bella Non vedo l'ora che andiamo avanti con le costruzioni Mi raccomando nei commenti suggeriteci qualche altra costruzione che potremmo fare Iscrivetevi al canale di Martina che è trovata nella descrizione Ci sono i prossimi video Già vi è a tutti ragazzi Già vi è a tutti E' bella